Si fosse giocato come dal calendario a ridosso di Natale, la Canottieri Belluno ci sarebbe arrivata con sole vittorie, mentre per la Gioric Sedico avrebbe rappresentato una sorta di ultima spiaggia. Ma quel derby saltò per i casi di Covid nei sedicensi e così poco più di un mese dopo la situazione si è ribaltata. Con lo stesso numero di partite giocate i sedicensi sono ora a quota 22 punti in classifica, davanti di due lunghezze, rispetto ai cugini. D'altronde la Gioric Sedico nel 2021 ha vinto 6 partite su 7, mentre la Canottieri si è inceppata sul più bello. Ad ogni modo il derby vale comunque un passo in avanti importante in chiave playoff. Il sedico sulla carta è favorito perché ha la rosa costruita con ambizioni di vertice e soprattutto sta bene dal punto di vista mentale. La Canottieri però occupa comunque una posizione forse sorprendente alla vigilia e sembra avere meno da perdere. Pur nella tristezza di dover giocare a porte chiuse dopo i pienoni delle scorse stagioni, può uscirne davvero un confronto interessante tirato, come tutti i derby. Di sicuro da casa si potrà seguire la sfida in una duplice modalità, o tramite il canale YouTube Sedico Channel, oppure sulla pagina Facebook ASD Sedico Calcio A5, con la telecronaca integrale, per poter vivere comodamente da casa il fascino della sfida tutta bellunese.